Nel video di oggi ragazzi ti parlo di due argomenti, seguimi con attenzione perché credo siano interessanti soprattutto per chi utilizza fotocamere Sony e anche per chi ha bisogno di una dock Thunderbolt 4 con una velocità di trasferimento decisamente importante. Allora Adobe Lightroom Classic è stato aggiornato recentemente ok non ti parlo ovviamente di tutte le funzionalità che hanno implementato come il Generative AI ok lasciamo ai guru della post produzione ovviamente fare questi tutorial a me interessa soprattutto un aggiornamento cioè che finalmente dopo anni 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 adesso anche chi ha fotocamere Sony può usare il Tethering con Lightroom ok prima eravamo ovviamente obbligati a utilizzare Capture One che rimane il miglior software non solamente per quanto riguarda il Tethering però secondo me adesso che abbiamo questa opzione anche su Lightroom possiamo come farà il sottoscritto proprio disdire un abbonamento e rimanere solamente con Lightroom e Photoshop che per me è più che sufficiente però ovviamente non è tutto oro quello che luccica quindi guarda questo video così ti do più informazioni e poi ti parlo anche di questa dock decisamente molto interessante portatile una dock Thunderbolt 4 che ha diverse uscite per quanto riguarda non solo il collagamento di altri monitor fino a 8k ma soprattutto USB 3.1 che hanno un trasferimento fino a 40 gigabyte ok ed è soprattutto anche economica sono esattamente davanti alla mia postazione casalinga dove non utilizzo mai il Tethering ma per fare questa dimostrazione va più che bene mi sono ovviamente dotato di un cavo che è decisamente corto e non è ovviamente indicato a proposito del cavo adesso ti devo dire una cosa molto importante però prima volevo dirti che io questa funzionalità la vado a utilizzare solamente a me serve solamente in studio si potrebbe utilizzare anche l'aperto insomma dove vuoi te insomma però comincia a diventare tutto più complicato soprattutto quando devo gestire tutto da solo ok quindi solamente in studio ok e utilizzo un vecchio macbook del 2016 un i5 che praticamente fa fatica adesso ad aprire photoshop però per utilizzare la funzione Tethering di Lightroom praticamente vedo che si comporta bene ok e quindi va più che bene alle volte ci collego poi un display cioè un monitor più grande e quindi se ho bisogno di vedere meglio ecco che ho risolto anche quel problema ok quindi lo dico soprattutto a quelli che magari vogliono utilizzare un vecchio pc a condizione però che devi avere almeno e lo diamo per scontato un ssd nel tuo pc e soprattutto deve avere il cavo quello che praticamente vedi utilizzare da tutti quell'arancione che è quello originale della Tether Toll ok ci sono ovviamente dei cloni in giro io ho provato a comprarli ne ho presi due e praticamente posso dire che li ho lì sul cestino e non li utilizzo mai perché hanno decisamente un ritardo di uno o due secondi dal momento in cui vado a scattare ok quindi non è quella cosa che vorresti avere quando fai uno shooting ok ragazzi dopo ovviamente vedi te se ti può bastare un normalissimo cavo vai ovviamente attenzione prima di acquistarlo verifica ovviamente l'entrata della tua fotocamera se è type c micro sb insomma che non vai a sbagliare ad acquistarlo quindi detto questo fai l'aggiornamento di Lightroom all'ultima versione e lo dico soprattutto per chi vuole utilizzare una fotocamera sony altrimenti non funziona una cosa molto importante ragazzi che ovviamente se non sei pratico della funzione tethering devi attivare la funzione ovviamente usb innanzitutto devi andare alla voce network anche se almeno più recente o quello vecchio non cambia praticamente nulla la funzione pc remote ok premi e poi l'attivi la metti su on e poi metti usb mi raccomando questo molto importante poi passi alla seconda pagina e dove ti chiede dove vuoi salvare le foto tu metti quello che più ti interessa a te io personalmente le vado a salvare sia sulla asd che sull'hard disk del computer di default se ricordo bene te le fa salvare solo sulla sd quindi se magari non le vedi poi sulla cartella che è indicato a lightroom è perché non hai modificato le impostazioni qui ok a differenza di capture one che le salva solamente sul computer quindi attiviamo abbiamo anche la registrazione dello schermo ea devi andare su file tether capture ok start si apre una finestra allora qui ieri avevamo fatto delle foto a maria adesso facciamo delle foto nome di fantasia cristina ok insomma metti il nome che più ti piace poi hai la possibilità anche come quando vai a importare le foto di ovviamente scegliere un'impostazione io di solito lascio solo cast online ma potresti anche mettere come si dice cast online sequenza così potrebbe venire con cristina 1 2 3 4 e 6 già poste sono già numerate ok e quindi non devi praticamente poi impazzire per cercarle poi devi ovviamente indicare dove vuoi salvare le foto nell'hard disk del tuo pc quindi non serve che mi soffermi più di tanto i tag che io non utilizzo mai a cosa molto importante clicca qui cioè seleziona segment foto così la foto man mano che andrà a scattare proprio in tethering si apre in automatico ok così non devi parlare tempo andare a cliccarci sopra quindi premi su ok confermi si apre questa finestra che lui ovviamente in questo momento sta cercando la fotocamera perché non l'ho collegato ok puoi già accendere la fotocamera vai inserire ovviamente la type c il tuo cavo questo è un cavo di prova ok e a questo punto appare questa barra qui ok è una barra che praticamente ti consente di fare direttamente da pc quello che fai sulla fotocamera ci sono fotografi che praticamente li avrei anche visti lavorano seduti proprio davanti al display la fotocamera è proprio su un treppiede fanno le foto addirittura può succedere che dei fotografi hanno due fotocamere ok perché nel momento che le vai a collegare due tu praticamente in questo caso io ne ho una sola qui puoi anche switchare tra le fotocamere che hai collegato ok qui puoi cambiare tutti i parametri i tempi il diaframma il bilanciamento del bianco insomma queste cose che già conosci non serve che mi soffermi ok poi ci sono anche dei presenti che io non utilizzo mai quindi non mi soffermo perché non mi interessa c'è anche un'anteprima che la puoi attivare ovviamente c'è un ritardo questo si sa e quindi sono cose che credo sono abbastanza intuibili anche per chi è inesperto questo tasto grigio rotonda praticamente è questo tasto di scatto ok puoi fare anche una foto direttamente da qui anche se però dovresti avere la foto su un cavalletto con la messa a fuoco già preimpostata quindi la vai a disattivare quindi detto questo facciamo una prova andiamo a chiamare la nostra modella che è già arrivata lì dietro voi non la sentite parlare sta ridendo e adesso noi andiamo a fare una foto ok facciamo una foto giusto di prova andiamo a inquadrare la modella scattiamo stac e dovrebbe apparire eccola qua come vedete salutiamo è molto semplice possiamo già fare delle modifiche andiamo proprio sul pannello dove hai tutte le possibilità ok adesso lui mi fa la presentazione perché la nuova versione proprio di lightron che qui non avevo installato ok ragazzi potete anche fare già delle modifiche chi utilizza la capture one sa benissimo che si può fare questa cosa e praticamente anche la foto successiva sarà già esposta come l'hai sincronizzata qui ok quindi continui a scattare vai avanti vediamo la velocità di specialmente abbastanza veloce e quindi potete eseguire le vostre foto direttamente dal vostro pc posso anche scattare da qui vediamo mettiamo la festa ho messo a fuoco ok e scatto direttamente da qua sarà venuta sfocata no ecco ok ragazzi spero che questo tutorial sia abbastanza semplice comunque se avete ovviamente dei dubbi vi aspetto qui sotto nei commenti voglio parlarti anche di questo prodotto che ti ho accennato durante il video che è una saponetta in metallo ok saponetta per quanto riguarda proprio le dimensioni modo leggero non è solamente una doc perché tutti gli effetti è proprio una doc ma è anche un hard disk un hard disk che può raggiungere una capacità di storage di massimo 8 tera quindi decisamente molto elevate questo dipende poi dall ssd che andrei inserire è una tipologia di prodotto che mi piace molto che vado a utilizzare preferisco molto questa tipologia rispetto al classico hard disk portatile che molti consigliano chi ha l ssd integrato questo mi dà molta più sicurezza soprattutto perché me lo posso cambiare quando voglio io e soprattutto posso aumentare proprio la capacità in qualsiasi momento in maniera molto veloce dopo te lo faccio vedere video in collaborazione con questa azienda a cassi spero di averlo pronunciato bene quindi una marchetta da 100 per cento ma è un prodotto che vado a utilizzare nel quotidiano ti porto sempre prodotti che mi piacciono prodotti che non mi piacciono praticamente non li vedrai mai e ce ne sono stati te lo posso garantire però questo praticamente te lo consiglio l'utilizzo da due mesi più o meno che nel quotidiano perché tutti i cataloghi di lightroom e anche qualche progetto di final cut sono all'interno proprio dell ssd che ho messo io dallo studio me la porto a casa finisco di editare qua poi torno in studio quando vado a bucarest affitto magari uno spazio cioè uno studio hanno anche un pc collego questo come ti dicevo insomma è la soluzione diciamo più portatile ok io non sono uno di quelli che viaggia con un computer portatile ok almeno per il momento sono di questa idea quindi questa è la soluzione che adotto ci sarebbe anche la soluzione tablet ma preferisco fare tutto una volta che sono arrivato a casa con più tranquillità qui posso collegarlo al mio pc dove voglio e posso aprire direttamente il lightroom ok quindi detto questo devi avere un pc con una porta thunderbolt 4 oppure anche thunderbolt 3 tanto la velocità di trasferimento non cambia tanto sono sempre 40 gigabyte massimo che potresti raggiungere ok per quanto riguarda poi l'uscita proprio che hai nelle porte supplementari che riesci ad avere proprio con questo piccolo prodotto quindi perdi una thunderbolt dal tuo pc però avrai due porte usb di tipo a 3.1 che hanno trasferimento massimo fino a 40 gigabyte hai anche una usb type c nel lato opposto laterale e se vuoi collegare anche dei monitor puoi metterne addirittura due hai due display port ok ma anche lettore sd e questa è una mancanza che purtroppo mi dispiace ok però c'è un modello successivo che costa qualcosa in più un po più grande e avrai anche il lettore sd ti lascio il link descrizione ed è un occhio ai prodotti che produce proprio questa azienda cinese ok ragazzi hai un cavo in un cavo thunderbolt 4 mi raccomando usa quello per avere le massime prestazioni e se vuoi anche alimentarlo puoi farlo perché alcune periferiche potrebbero richiedere proprio l'alimentazione a me non è mai successo però potresti farlo e qui hai l'entrata usb di tipo c bene ragazzi allora fasi conclusivi di questo video ma ti devo dire l'aspetto più importante nel frattempo siamo passati dalla luce solare cioè la luce naturale alla luce artificiale perché questo video è spalmato proprio durante la giornata non sono riuscito a registrare questa mattina quindi lo facciamo adesso di sera che siamo anche un po più stanchi del solito però non ve lo facciamo perché vogliamo portare contenuti decisamente interessanti quindi un like sulla fiducia anche perché il mio canale ragazzi è decisamente disceso per quanto riguarda le visualizzazioni praticamente avevo più visual nel 2018 quando praticamente ho aperto questo canale qua ma non ha importanza se volete supportarmi un semplice like allora non ti voglio parlare di quale ssd devi inserire quello lo lascio decidere a te ovviamente è più alto il budget sappiamo già quale comprare ok e tanto meno di quanti tera lo dovrei acquistare perché quello tu sai di quanto hai bisogno ok tutti vorremmo avere una hard disk ssd da 8 tera però costa come un rene momentaneamente ok quindi ti voglio però far vedere quanto è veloce sostituirlo io metterlo la prima volta perché la prima volta ovviamente dovrei inserirlo però ci potrebbero essere di casi che non vorrei formatare perché non sei sicuro di farlo perché potresti perdere qualcosa quindi io faccio proprio così prima vado a toglierlo perché voglio continuare a utilizzare il case e vado a sostituire con un altro ssd ok e quindi questa operazione non è faticosa perché non devo avere cacciavetti che alle volte quando serve non li trovi non devi avere chiavi esagonali praticamente basta tirare ok c'è un coperchio abbiamo quattro sfere ai lati e praticamente lo tiene bloccato tra l'altro questo fa anche da dissipatore perché deve combaciare con il pad termico che tu devi appiccicare l ssd ok fallo mi raccomando altrimenti la ventola girerà sempre sì perché abbiamo anche una ventola che serve per raffreddare qualora le temperature comincino aumentare di brutto ok raramente succede ma potrebbe ovviamente accadere soprattutto d'estate e soprattutto quando lavori a un file decisamente pesante come un file di un video 4k anche 10 bit praticamente la ventola entrerà in funzione ok quindi questa è una cosa che devi sapere ma ti posso dire che non è un che praticamente ti crea disagio almeno a me non crea nessun problema che l'importante che le prestazioni non calino che la ventola ovviamente tiene abbassato le temperature ok quindi cosa devi fare beh se la prima volta che devi inserire un ssd avrai un alloggiamento che lo vedrai decisamente libero infili ok non serve un titolo di studio per farlo hai un piccolo fermo in gomma che praticamente va a sostituire la classica vite quindi la spingi e blocchi e poi applichi un pad termico ok e poi vai a chiudere e praticamente per chiudere praticamente devi ovviamente allineare i contatti qui hai due pin e qui hai praticamente la parte che devono essere collegati lo vai ovviamente ad appoggiare una leggera pressione senti proprio il clic e a questo punto se le ssd la prima volta che lo vai a utilizzare lo devi formattare ovviamente in base al sistema operativo che vuoi utilizzare oppure se vuoi utilizzarlo anche su windows lo vai a formattare in modalità fatto ok vedete oppure se già formattato ovviamente poi già ovviamente inserire nuovi file raw video insomma quello che vuoi tu all'interno dell'hard disk ok ragazzi collega il cavo ovviamente utilizza quello che ti danno in dotazione oppure un cavo thunderbolt 4 giusto per avere le massime prestazioni ok ragazzi concludo qua credo di aver detto abbastanza di questo prodotto se hai ovviamente domande ti aspetto qui sotto nei commenti se il video ti è piaciuto un like un commentino anche per salutarmi perché no aiuta proprio l'algoritmo a far vedere questo video anche magari a chi non mi conosce ok ragazzi quindi ti do appuntamento alla prossima settimana più tardi fra 15 giorni insomma quando abbiamo tempo proprio di montare un video ok ti saluto un abbraccio e ci vediamo ciao